Riccardo, si riparte dalle vittorie dello scorso anno, prima di iniziare la nuova stagione, ti chiedo se e che cosa ti è rimasto di una delle vittorie che hai ottenuto l'anno scorso? C'è ancora un ricordo che hai vivo in memoria? Penso che quella che ricordo di più sia senz'altro la prima, nonostante fosse la meno importante delle quattro che ho vinto, perché erano tre anni che cercavo la vittoria e poi dal 22 aprile dell'anno scorso la cercavo ancora di più perché ci tenevo a dedicarla a un amico e quindi diciamo che quella è stata proprio una liberazione, tant'è che dopo l'arrivo mi sono anche commosso. Quindi se devo scegliere quella che ricordo meglio, senz'altro la prima, il Tour of Bjorg. Il tuo nome è stato quello della prima conferma di questa squadra per il 2019, questo un po' ti rende l'uomo squadra, l'uomo di punta anche per la stagione prossima? Ma con Stefano sono tutti leader diciamo, non c'è un leader disegnato e lui piace fare tutti leader e poi diciamo che chi merita di più goderà dei ruoli di capitano durante la gara. Però sì, è stata senz'altro una buona stagione, anzi forse ottima, non mi aspettavo neanch'io di vincerne quattro, sono sincero, avevo pensato una, due. Se ne sono arrivate quattro, però questo non toglie che prossimo anno cercherò di fare ancora meglio. Le quattro vittorie rappresentano un peso perché poi nella stagione prossima ovviamente quattro è l'obiettivo minimo. Eh di sicuro sì, vincerne quattro ha alzato l'asticella per la prossima stagione a livelli diciamo, almeno come hai detto te, altre quattro vittorie. E sto lavorando bene, sto facendo un buon inverno per cercare di partire subito forte e di diciamo cogliere al meglio tutte le occasioni che si presenteranno. Ti chiedo un impatto anche con i nuovi, c'è Sterbini, c'è Kobayashi che tu conosci, c'è Onesti, insomma com'è questo nuovo gruppo? Sì, sono tutti ragazzi che più chi meno conosco, conosco. Penso che la cosa che ci accomuna è che abbiamo tutti molta voglia di far bene, di lavorare bene, di rilanciarci ognuno per motivi, chi per altri. Quindi penso che questo sia come sempre nelle squadre di Stefano, l'unione sarà quella che farà la differenza nel corso della stagione. Ti sei dato un appuntamento con una gara in particolare che magari ci tieni particolarmente a vincere, che magari l'anno scorso ti è sfuggito? Mi piacerebbe magari non centrare la vittoria ma far bene in una gara italiana, che diciamo che è quello che un po' mi manca. Anche se devo dire che le gare italiane sono tutte abbastanza dure per le mie caratteristiche, però come ripeto sto lavorando bene, quindi spero di essere competitivi anche in percorsi come quelli delle gare italiane. Grazie a tutti.